Montevarchi ricorda tutti gli uomini e le donne, civili e militari, caduti per causa della guerra. Si sono infatti svolte all'interno del cimitero comunale, dove si trova il monumento ai caduti senza croce, le celebrazioni del giorno della memoria. Un luogo scelto non a caso, il monumento rappresenta infatti il sacrificio di tanti italiani ed è per questo che nel suo basamento è custodita terra proveniente dal campo di concentramento di Dachau, dalla foiba di Bosovizza, dalla steppa russa, rabbia di Lela Lamein, acqua del mare e del piave e pietre del Monte Grappa. Montevarchi ha organizzato due eventi, uno il sabato, una presentazione di un libro sulla memoria con gli studenti e con tutti i cittadini e ieri una commemorazione particolare perché il nastro azzurro ha organizzato un incontro di fronte al monumento dei caduti dove si ricordano tutte le vittime degli stermini, quindi sia di Auschwitz che poi delle foibe, quindi due eventi storici tremendi che però vanno ricordati con lo stesso valore e con la stessa importanza proprio perché le vittime sono tutte uguali. Grazie. Grazie. Grazie.